Estate rovente in Sicilia anche sul fronte dei rifiuti. Basta guardarsi intorno, anche nel territorio ebleo, per vedere che si è in uno stato di emergenza. Con il pienone di turisti che si registra in questo caldo agosto, le discariche quasi al limite della capienza e i pochi centri di compostaggio che non riescono a smaltire l'organico proveniente dalla raccolta differenziata, i vecchi e mai risolti problemi degli ato e l'immondizia abbonda quindi ovunque. Sarebbe però sbagliato ritenere il problema solo legato alla massiccia presenza di turisti e vacanzieri che si verifica in estate. Si rischia infatti una nuova emergenza, rifiuti, l'ennesima. Le discariche ormai, si sa, sono praticamente piene e proroga dopo proroga presto raggiungeranno un limite assoluto. L'impianto di Trapani, che sorge in contrada borranea, si avvicina alla saturazione. Lo spazio sempre più ridotto per l'abbancamento dei rifiuti, ha mandato in tinta i comuni trapanesi su tutti i mazzara del Vallo. L'imminente chiusura in piena estate provocherebbe una crisi di grosse proporzioni. A Palermo, bello lampo ai mesi contati, la sesta vasca ha un'autonomia stimata fino a dicembre. E della settima vasca, quella che dovrebbe scongiurare l'emergenza, esiste solo un progetto non ancora approvato e per di più senza copertura finanziaria. Intanto la raccolta differenziata vive crescenti difficoltà dovute all'insufficienza dei centri di compostaggio. I pochi che ci sono, otto in totale quelli attivi, non riescono a trattare tutto l'organico prodotto. Nell'agrigentino il quantitativo di rifiuti che arriva nell'impianto di Sciacca è aumentato notevolmente con la stagione estiva e non si riesce a smaltirlo. A Ramacca, la piattaforma privata, che accoglie tra le 200 e le 250 tonnellate al giorno di rifiuti cosiddetti umidi, entro fine mese chiuderà i cancelli, il che, oltre a vanificare gli sforzi per la raccolta differenziata, fa schizzare in alto i costi di conferimento. Da 85 euro per l'umido portato in un impianto di compostaggio ai 140 euro mediamente richiesti da una discarica. In Sicilia, sulla carta, i centri di compostaggio dovrebbero macinare qualcosa come 417.000 tonnellate all'anno di organico. In realtà ne differenziano solo 160.000 tonnellate. Colpa dei centri mai entrati in funzione, pur essendo autorizzati dalla regione. In alcuni comuni, soprattutto del Messinese, c'è già chi annuncia a maniere forti, con rifiuti scaricati davanti alla presidenza della regione. Grazie. 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 Grazie.